E' stata effettuata una recente ricerca su 3.500 uomini europei e americani ed è stata effettuata sul tema della masturbazione. Secondo questa ricerca alcuni uomini si masturbano 156 volte all'anno, quindi vuol dire circa 3 volte a settimana. Considerate le 21 masturbazioni annuali che ciascun uomo dovrebbe avere proprio per uno stato di benessere e salute fisica, non è stato stabilito quante volte è possibile masturbarsi al giorno e quanto sia il numero corretto. Quello a cui dobbiamo prestare attenzione sono sicuramente i segnali del corpo, quindi evitiamo la masturbazione quando c'è irritazione, quando c'è fastidio, quando c'è arrossamento ma per il resto dobbiamo sapere che è una pratica che porta benefici e che dà sicuramente la riduzione del cancro alla prostata e porta dei benefici a livello sessuale e fisico sia individuale che nella coppia. E' stato inoltre riportato dallo studio che alcuni uomini raggiungono l'orgasmo per circa 5-6 secondi e altri per 7-9. Anche qui non c'è un numero ben definito.